Ho deciso di unirmi ad una banda dopo sette anni per la realizzazione del disco perché avevo bisogno di autenticità. Ho capito che la musica insomma quella registrata non è necessariamente la mia unica forma di espressione quindi in questi sette anni ho costruito attorno a me tutta una serie di cose che mi hanno permesso di vivere facendo l'artista e di trattare poi la parte discografica in maniera estremamente libera e quindi volevo fare un disco libero autentico divertendomi con delle persone nuove che approcciavano alla musica in maniera libera. Bisogna festeggiare è un pezzo a cui sono molto legato nel disco perché è un pezzo che parla di libertà di potersi di poter indossare i tacchi o che ne so truccarsi e andare in ufficio essere estremamente se stessi quando e come si vuole festeggiare per quello che si è siamo decisamente indietro nel nostro paese per da questo punto di vista siamo costantemente giudicati credo che ci sia su tutto e la prima cosa tra l'altro è è proprio l'espressione esteriore cioè come come ci vestiamo come ci comportiamo i nostri gesti sono tutti giudicati basta guardare i social basta guardare quello che che insomma scrivono gli haters su delle tematiche quindi credo che siamo siamo un po indietro io invece penso che bisogna veramente essere liberi di essere se stessi come come si vuole nel silenzio fa boom i temi trattati sono quelli personali perché attingo da me stesso sempre per poter essere incisivo è un disco sì della tradizione ma della tradizione negli arrangiamenti ma è legato da una canzone a un'altra attraverso i sentimenti i sentimenti che tornano quindi c'è l'amore c'è la paura c'è la speranza c'è la vanità ci sono anche patrone e santi inventati e c'è tanta gioia tanta festa è un concept sulla accettazione di se stessi secondo me poi come dire non si sa mai bene perché come nasce un disco no però c'è sempre uno scossone motivo che ti porta a questo quindi io l'ho vissuto e l'ho scritto tra l'altro in pochissimo tempo maldecap evoca l'amore dei nonni ma evoca l'amore quello puro quello che va oltre le avversità l'amore che nonostante tutto che si trasforma da un amore passionale a amore tra virgolette monotono monotono inteso come quotidiano apparecchiare la tavola allo stesso modo tutti i giorni quindi i sentimenti si trasformano ambisco nell'amore monotono quello che ti dà altre forme di emozioni legati però alla costruzione di qualcosa e poi insomma sicuramente quella cosa lì è per me credo credo che sia la il senso della vita poi sono del segno dei pesci e quindi sono assolutamente innamorato dell'amore la madonna della nina nana è una canzone che tratta il tema di della paura di non essere accettati per quello che si è questa canzone che da un lato è super festaiola dall'altro è una tragedia una sorta di canto verso qualcosa di alto una richiesta nello spegnere i sentimenti legati alla passione alla carne a quelli amorevoli del momento a favore del proprio benessere personale non canto sempre le mie canzoni no però è la madonna della nina nana è una canzone che effettivamente ho risuonato poco tempo fa a casa di solito mi sveglio mi sveglio molto presto al mattino faccio le le mie cose e poi passo un po di tempo al pianoforte devo dire che qualche giorno fa l'ho suonata e mi ha dato un po di carica porturbino ormai è diventata una anche quella una festa patronale sotto certi aspetti pugliesi pugliesi che aspettano tutti giù da me ed è una cosa meravigliosa perché da un lato negli anni in cui sono stato fermo mi ha dato la forza di andare avanti e di fare altro dall'altro mi toglie tante 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 energie però le energie che secondo me alla fine vengono sempre ripagate quest'anno ci sarà il festival e sarà bellissimo come gli altri anni